Cominciamo subito con la riete. Sostenuti dagli astri, vi impegnate al massimo per appagare non soltanto le ambizioni economiche, ma anche le vostre inclinazioni personali. Il vostro stile si impone alla grande. Toro, notizie inaspettate possono movimentare l'attività professionale. Non fatevi abbagliare da traguardi improbabili quando avete qualcosa di concreto a portata di l'intesa con il partner non va. Gemelli, siete al massimo della velocità. Arriva una sferzata di energia da spendere nel lavoro e nel divertimento. Giornata per le trattative, serate invece per gli svaghi, tra aperitivi e proposte di ogni genere. Cancro, mantenetevi mentalmente flessibili invece di irrigidirvi sulle vostre idee, come spesso vi succede. La fantasia non è nemica della logica, ma un suo prezioso complemento. Temporaneo blackout familiare. Leone, stelle un po' dispettose vi renderanno più permalosi e poco comprensivi nei rapporti interpersonali. In campo affettivo è meglio che non coltiviate eccessive illusioni. Bene il lavoro. Vergine, fase niente male, anche se affaticati dal lavoro, berati da impegni e stressati da mille questioni da sistemare, compresi i conti economici che, guarda caso, anche questa volta non tornano. Rilassarvi vi farà bene. Bilancia, metterete in scena il vostro personaggio più affascinante. Diplomatico, fantasioso, espansivo. Entusiasmo e sentimento viaggiano di pari passo. Non manca comunque la grinta per concretizzare ciò che vi sta a cuore. Scorpione, siete piuttosto nervosi e insofferenti, ma dalle amicizie arrivano segnali di disgelo e di opportunità e anche proposte interessi consolatori. Sagittario, già siete curiosi per temperamento e la vostra attenzione si lascia facilmente catturare da tutto ciò che sa di nuovo. I vostri interessi crescono a dismisura. Capricorno, giornata tranquilla e produttiva. Doppia quantità di incombenze da svolgere entro la serata. In fatto di lavoro ed impegno non correrete il rischio di annoiarvi. Coltivate il benessere, siate ottimisti e state in compagnia di chi vi piace. Acquario, vi riuscirà bene tutto ciò che richiede fantasia, inventiva e mente lucida. Alla carica vitale si aggiunge l'abilità di essere al posto giusto nel momento giusto. Pesci, giornata sottotono caratterizzata da qualche intoppo e un po' di stanchezza. Rimandate gli impegni meno urgenti e regalatevi una pausa di relax. Riguardo al campo affettivo, la voce della coscienza vi dice che, se ci tenete alla persona amata, dovete evitare pericolose distrazioni.